FUNGO PORCINO Non ce l'ha fatta Aldo Vignali, il 67enne di Compiano, colpito da malore due giorni fa, mentre si trovava a bordo del suo trattore. L'uomo, mentre da costalta procedeva verso la frazione di strela a bordo del mezzo, ha improvvisamente perso i sensi, cadendo. Da subito le condizioni dell'agricoltore erano apparse molto gravi. Accompagnato al maggiore di Parma e nell'isoccorso, era stato ricoverato nel reparto di rianimazione. L'uomo purtroppo è spirato nella notte senza più riprendere conoscenza. Aldo Vignali, nato il 29 agosto del 1957, lascia la moglie Josephine, i figli Mattia e Jessica e le sorelle. Domenica 29 settembre alle 20.30 nella chiesa di Strela sarà recitato il Santo Rosario, mentre i funerani saranno celebrati lunedì 30 alle ore 14 nella medesima chiesa.